Un saluto dal Tg della mobilità, oggi dalle 10 alle 12 in largo Bernardino da Feltri, manifestazione di studenti per chiedere l'obbligo di utilizzo in classe dei dispositivi di protezione individuale ed altre misure preventive e anti-Covid. Prevista la partecipazione di circa 200 persone, entro le 8 e sino a cessate esigenze saranno istituiti i divieti di sosta. E da oggi sarà avviata una nuova fase dei lavori di riqualificazione in via del Tritone. Dalle 7 la strada sarà chiusa al traffico da piazza Barberini a largo del Tritone. Modifiche di percorso per 11 linee dirette in centro. I bus percorreranno via Barberini, largo Santa Susanna, via Vittorio a Emanuele Orlando, piazza della Repubblica, via Nazionale e il traforo Umberto I. Le linee circolari 52 e 53 limiteranno le corse invertendo la marcia alla rotatoria di piazza Barberini. E tutto appuntamento alla prossima edizione.